Ciao a tutti, oggi faccio un video diverso da solito perché voglio spiegarvi i motivi per i quali ultimamente carico meno video su YouTube rispetto a prima. Quest'anno non è stato un anno facile, è iniziato veramente molto male, pieno di preoccupazioni e tutt'oggi i pensieri sono parecchi, ma in tutto questo caos di brutte notizie, pensieri e preoccupazioni c'è una bella notizia che finalmente voglio condividere con voi, vi do un piccolo indizio, eccolo qui, sicuramente avete capito, si aspetto una bambina, sono quasi al sesto mese, ormai manca una settimana, ho tenuto questa notizia per me perché avevo paura che questo piccolo sogno potesse sparire all'improvviso, avevo l'esigenza di tenerlo per me, infatti l'ho detto a pochissime persone e ora vorrei gridarlo al mondo, abbiamo appena fatto la morfologica settimana scorsa ed è tutto ok, devo soltanto evitare un pochino gli zuccheri e i carboidrati perché mi hanno detto che ho troppo liquido amniotico e quindi devo fare la curva glicemica per escludere eventuale diabete gestionale, magari se vi fa piacere vi aggiorno man mano sui vari esami che faccio e sui vari acquisti. Direte cosa c'entra tutto questo con YouTube? Beh, vi volevo informare di questa notizia, volevo condividerla con voi proprio perché i primi mesi sono stata abbastanza assente per via delle nausee e del vomito. Alimenti che prima mi piacevano non mi piacevano più e non mi piacciono tuttora, tipo il latte, ancora non riesco bene a digerirlo e quindi lo evito. Oppure la confettura di ciliegie con cui facevo colazione prima e ne andavo matta, ora non riesco neanche a pensare di poterla mangiare, insomma, ancora va così così. Entrato nel secondo trimestre ho recuperato davvero le energie, mi sento bene, in forma, ogni tanto mal di schiena e qualche nausea, rara nausea, ma devo dire che le cose vanno molto molto bene, siamo felici, sono felice, davvero molto felice e ogni volta che vado a controllo dalla ginecologa e vedo questo piccolo batuffolo che cresce giorno dopo giorno e il mio cuore si riempie di felicità. Scusate se mi emoziono, ma parlare della bambina mi rende davvero così felice che mi fa commuovere. Nulla, volevo condividere questa gioia con voi e dirvi che comunque io cerco di essere presente su youtube facendo video e seguendo i vostri canali, perché comunque ci tengo, mi piace caricare video, poiché devo ridurre i carboidrati e gli zuccheri per colpa di questo aumento di liquido amniotico o comunque nel caso di diabete gestionale devo comunque stare attenta a carboidrati e zuccheri. Ho pensato di introdurre nuove tipologie di video su youtube per non annoiarvi facendo comunque video poco piacevoli sul cibo tipo insalate e cose così. Allora ho pensato di introdurre nuove tipologie di video, magari i chiacchiericci mi fanno un po' più di coraggio perché sono una persona abbastanza timida davanti alla telecamera, infatti vi chiedo scusa se ripeto spesso le stesse cose oppure se mi imballo e inizio a fare... insomma i primi tempi non saranno facili. Se volete supportarmi ugualmente io vi ringrazio. Ovviamente i video di cucina non mancheranno. Chi mi segue su instagram sa che io adoro leggere, quindi magari stavo pensando di introdurre una nuova tipologia di video sui libri che leggo, facendo recensioni, dicendovi le mie impressioni. Poi ho pensato di farvi dei video spesa, dei video chiacchiericcio come questi dove vi aggiorno sulla gravidanza e magari sugli acquisti che farò prossimamente per la bambina, i prodotti che sto usando in gravidanza, prodotti che andrò a usare. Magari voi mi darete dei consigli nei commenti, ci terrò molto sui prodotti da comprare per neonati o bambini validi, di o magari naturali. Insomma avevo pensato di fare una cosa del genere, giusto o meno lasciare il canale senza video e comunque youtube mi tiene tanta compagnia, quindi mi dispiacerebbe insomma limitare il mio canale soltanto ai video di cucina e non poter magari caricare altri video. Quindi ho deciso di farmi coraggio, perché sono una persona abbastanza timida come vi dicevo e di provare questa nuova strada, esperienza insomma. Io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata, vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video. Bacio, ciao!